Si va verso lo sciopero dei lavoratori del CUP, il centro unico di prenotazione dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dopo l'avvio dello stato di agitazione di venerdì scorso. È la CISAL dell'Aquila a parlare di situazioni insostenibili per enormi carenze organizzative di gestione del servizio da parte della società di Trento GPSPA. Sconcertante per il sindacato soprattutto il non rispetto della sicurezza dei lavoratori, costette ad esempio a lavorare con le stampanti a pochi centimetri dal viso, mentre il clima diventa sempre più insopportabile con gli utenti arrabbiati che spesso aggrediscono verbalmente i lavoratori. Peccato forse dovrebbero muoversi un po' di più da Trento e venire all'Aquila perché le problematiche sono tante. Ci sono quelle legate alla sicurezza, questi ragazzi lavorano con le stampante praticamente ad altezza viso, il locale non è arreggiato, gli ispettori dell'ASL ci hanno ignorato e non hanno risposto a un nostro intervento di controllo. Possiamo parlare delle frequentissime litiche, poi leggete anche dagli organi di informazione che succedono frequentemente. Abbiamo chiesto di istituire un servizio di vigilanza. Io non voglio accusare l'utenza perché l'utenza è stremata, perché c'è una carenza anche organizzativa. Infatti noi abbiamo chiesto di aumentare gli sportelli quantomeno il pomeriggio perché loro hanno cinque sportelli ma solo il lunedì e il martedì mi sembra, ma che vengono totalmente assorbiti dall'intramenia e dallo sportello cortesia. Quindi noi abbiamo chiesto aprite le più spostazioni tutti i giorni. Contestualmente proprio ieri è stata diffusa una nota dall'ASL dell'Aquila in cui si spiega che ora il numero verde del cupo non è più utilizzabile. A noi ci sembra veramente paradossale perché nel 2019 in un mondo ormai digitalizzato non si può pensare che nelle case l'Aquila ancora di più perché da dopo il sisma i numeri fissi, se voi ci fate caso basta prendere un elenco telefonico se ancora ce ne esistesse uno, non ci sono quasi più. Con la sospensione del numero verde ci si aspetta dunque maggiore caos e lunghe fila gli sportelli della prenotazione e ulteriori disagi e malumori per gli utenti e per i lavoratori.